Salve ragazzi, oggi video un po' particolare, come sapete questo canale non parla solo di musica ma parla anche di cultura pop e oggi ci andiamo a sparare questo video di cultura pop, vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram e noi parliamo dopo la sigla di Romeo e Giulietta E' un po' che non divago rispetto alla musica, quindi oggi parliamo di un classico della letteratura che entra a pieno titolo nella cultura pop In che senso cultura pop? Nel senso che senza alcune opere di Shakespeare la cultura occidentale non sarebbe la stessa sto pensando all'Amleto, sto pensando alla Tempesta Senza Romeo e Giulietta probabilmente la cultura occidentale sarebbe la stessa però è fuori da ogni dubbio che questa tragedia shakespeariana abbia lasciato l'impronta potentissima nell'immaginario collettivo I profani la sopravvalutano, magari mettendola al di sopra dell'Amleto Chi approfondisce un poco di più la sottovaluta, magari paragonandola ad un romanzo rosa di consumo E raga, veramente è difficile incasellare questa opera nel suo giusto contesto culturale Storia d'amore per Antonomasia? Storia d'amore ostacolato per Antonomasia? Raga, non è tanto una novità nella cultura occidentale la storia d'amore ostacolata Tutta la lirica occitana, e stiamo nel basso medioevo, è basata sull'idea di amore ostacolato No, c'è dell'altro ragazzi, il punto saliente di questa commedia secondo me sta nel contrasto tra modernità e concezione medievale Mi spiego meglio La scena più famosa della tragedia, il balcone di Giulietta Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Se una rosa la chiami con un nome diverso avrà sempre lo stesso suo rimpiante profumo La frase, insomma, poi non l'ho imparata a memoria Cosa dice Romeo sotto al balcone di Giulietta? Ah, noi sfortunati, non possiamo cambiare il nostro destino Giulietta gli risponde Ma caro, noi siamo artefici del nostro destino Insomma, è il contrasto della concezione moderna In cui l'uomo, il legislatore della natura, è artefice del proprio destino E la cultura medievale secondo cui all'uomo, all'individuo, è stata assegnata una parte E da quella parte non può uscire Ci torniamo nel terzo punto che secondo me è il più importante Il secondo punto è Dibaldo Raga, i cattivi di Shakespeare meritano di essere trattati a parte Perché sono veramente curatissimi Però escludendo casi particolari come Shylock, come Lady Macbeth Che sono dei cattivi eccellenti E come appunto Dibaldo Gli altri si possono, insomma, riassumere nell'idea di cattivo macchiavellico Cattivo, cattivo macchiavellico Diagon e Lotello, Cesare e Nantone e Clopatra Sono personaggi che hanno la caratteristica in comune di essere macchiavellici Lusingatori, adulatori, ruffiani per così dire Insomma, manipolatori Arroganti col più deboli e zerbini coi potenti Dibaldo no Dibaldo odia per l'odio Non è un attaccabrighe e non è un manipolatore Dibaldo odia per odio Il personaggio che secondo me si avvicina più a Dibaldo Nella produzione shakespeariana Secondo me è la Erte Perché anche la Erte è cieco Però questa cecità Di fondo ce l'ha una giustificazione Come se c'era la morte del padre Ovvero Lazio Mi direte Ok, allora non è cieca No, no, raga È cieca, è furibonda Lo stesso Però Dibaldo è diverso Odia per l'odio È violento Il nome della violenza Figure del genere Le vedremo solo nella letteratura del Novecento O comunque una letteratura romantica È un genio della violenza E arriviamo al punto 3 Il più importante Abbiamo detto che Romeo rappresenta la visione medievale e deterministica E Giulietta rappresenta la visione contemporanea Moderna, contemporanea a Shakespeare E possibilista Bene, questi due personaggi non a caso moriranno in maniera diversa Romeo muore comodamente sapendo di aver adempito al suo ruolo Al ruolo che gli è stato assegnato da Dio Probabilmente è uno che crede così tanto nella staticità del mondo Che se avesse visto Giulietta risorgere davanti ai suoi occhi Non ci avrebbe creduto Soprattutto poi magari grazie all'inganno di un prete Quindi muore, muore dolce dolce con il veleno Giulietta muore in maniera molto diversa Perché Giulietta ha provato a cambiare il mondo E a tratti c'è riuscita Ha sconfitto la morte, è risuscitata Però non è riuscita a comunicarlo Se non al di fuori della propria isola Non lo puoi comunicare Puoi superare la concezione deterministica Senza comunicarlo Insomma, passi dall'altra parte della barricata E una volta passato dall'altra parte della barricata Non si torna indietro Non esiste più la morte comoda Non ti rimane neanche un goccio di veleno Per seguire le persone che appartengono ad un mondo determinista Quindi ragazzacci Questa era la mia visione su Romeo e Giulietta Io vi invito a seguirmi su Instagram Se vogliamo approfondire la tempesta e l'amleto Fatemelo sapere nei commenti Penso che la mia posizione sia chiara Insomma, non possiamo vederlo come un grande capolavoro Ma non possiamo nemmeno paragonarlo A romanzo rosa di consumo Insomma, quindi ragazzi Direi che è tutto Fatemi sapere nei commenti Se condividete quello che dico E noi ci accettiamo alla prossima Ciao belli